Il disegno di legge e la buona scuola, targato Renzi e in discussione in Parlamento, non piace alla CGL e non piace all'impostazione che definisce autoritaria e invasiva, che non affronta i reali problemi del settore. Il sindacato lo ha ribadito nell'incontro organizzato a Lita Spertini di Campobasso alla presenza dei tre parlamentari, del PD Leva, Ruta e Venitelli, un disegno di riforma che è solo un battage pubblicitario. Ha sottolineato la Federazione ai lavoratori della conoscenza della CGL, in cui si propone di mettere in ruolo persone con uno scambio, dando grande potere ai dirigenti scolastici. Gerarchizza fortemente, determina un autoritarismo decisionale da parte del dirigente scolastico e non consente alla scuola collegiale di poter davvero lavorare in maniera giusta per ottenere di più e meglio dai ragazzi. Chi governa è stato evidenziato anche dagli insegnanti presenti e dalla dirigente scolastica dell'Lita Spertini, Maria Luisa Forte, deve capire che il futuro di un paese passa attraverso una scuola di qualità su cui investire. Per la CGL è un errore mettere tutto insieme e bisogna fare un decreto legge per le immissioni in ruolo rispettando la sentenza della Corte di Giustizia Europea e bisogna riorganizzare il sistema avendo bene in testa un progetto educativo e i valori fondanti della scuola. Inoltre, nell'incontro è stata anche sottolineata la necessità di innalzare l'obbligo scolastico a 18 anni con un percorso di studi adeguato. Attualmente gli unici soldi che mettono sono i soldi derivanti dal blocco dei contratti dei lavoratori della scuola, tant'è che noi abbiamo un blocco dei contratti dal 2009, non percepiamo nessun aumento e quei soldi che dovrebbero darci vogliono spacciarli per riforma. I tre parlamentari del PD hanno criticato aspetti del disegno di legge di riforma della scuola e si sono impegnati con emendamenti di modifica. Abbiamo sentito degli impegni, noi vigileremo affinché questi impegni vengano mantenuti, perché abbiamo sentito che sostanzialmente si è in disaccordo su alcuni aspetti che sono fondamentali. Quindi noi riteniamo che se queste promesse verranno mantenute, le nostre richieste e quelle dei lavoratori molisani verranno mantenute, altrimenti chiederemo conto di queste promesse. Noi già abbiamo indetto un grande sciopero generale. Il 5 di maggio andremo a Roma insieme agli studenti, insieme a tutti quanti i sindacati. Sarà la più grande manifestazione degli ultimi anni, perché questa scuola, così come è disegnata, è una scuola che non ci piace, è una scuola classista in cui vigila la gerarchia e in cui c'è l'uomo solo al comando, come è il Presidente del Consiglio in questo momento.